Disaggin vista per chi circola sulle strade provinciali. In base a un'ordinanza del dirigente del settore viabilità e trasporti, Domenico Ranesi, dal prossimo 1 gennaio è fatto obbligo per chi percorre le strade di competenza della provincia di Salerno di non superare i 50 km orari. A motivare il provvedimento c'è la condizione delle arterie, alcune delle quali presentano situazioni di pericolo. A peggiorarle, le basse temperature e i rischi ghiaccio e neve sulla carreggiata. Considerato che l'ente provinciale non ha la possibilità di intervenire per la manutenzione di tutte le strade per mancanza di fondi e personale, si è deciso di limitare la velocità sulle arterie al fine di garantire la pubblica incolumità di chi le percorre. Il provvedimento varrà per tutte le categorie di veicoli e per tutte le strade provinciali, ad eccezione della SP430, ovvero la Cilentana, e della SP417, ovvero la Versana. In questi due casi restano in vigore i limiti attualmente indicati. Intanto, sempre a proposito di viabilità, questa mattina i disagi si sono registrati proprio sulla Cilentana. È stata infatti chiusa la galleria di Cuccaro-Vetere. Qui la partecipata della provincia ha dovuto effettuare dei lavori di manutenzione, in particolare delle cunette, per consentire il deflusso delle acque. Ciò ha determinato il blocco di tutti i mezzi di passaggio, costretti quindi a seguire vie alternative da Vallo della Lucania a Futani.